Nel messaggio dell'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, per la Pasqua 2018, ancora una volta parole di speranza per le fasce più deboli della società, segnate dalla grande crisi economica e che in questi giorni non avranno un tetto dove ripararsi e neppure le tavole imbandite come la maggior parte delle persone che si riuniscono in famiglia per celebrare la resurrezione di Cristo in quella che è la solennità più importante dell'anno. Il suo pensiero è rivolto anche a chi non ha un lavoro o l'ha perso e non può sostenere i propri cari. Nell'occasione il presule fa anche un appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali per garantire a tutti una vita dignitosa. Lorefice, che in questi giorni è impegnato nelle celebrazioni liturgiche, non disdegna di fare visita alle comunità parrocchiali come pure ai carcerati del Lucciardone, dove come consuetudine porterà una parola di conforto la mattina della domenica di Pasqua. Il suo pensiero di padre e di vescovo a chi va in questo momento? Ebbè Pasqua ci dice che c'è una vita che nasce dalla morte. Vorrei chiedere al Signore che intanto dia a tutti la grazia di rinascere nella fede, perché anche noi come Gesù e sulle sue orme e sulle orme di tutti i Santi possiamo far diventare la nostra vita motivo di vita per altri. Gesù è venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza e se Lui ci dà vita i cristiani con la loro condotta debbono essere portatori di vita a tutti i livelli, sia sostenendo la vita nel suo nascere e soprattutto anche nei momenti finali di essa, ma soprattutto di sostenerla attraverso un impegno per la giustizia, la pace e la legalità. La speranza di Cristo risorto naturalmente anche per tante famiglie che sono nel bisogno? Ebbè è chiaro che da questo punto di vista oggi più che mai abbiamo bisogno di guardare alla vita e soprattutto di guardare alla città degli uomini a partire dalle frange più deboli, segnate soprattutto da questa direi triste crisi che abbiamo. E oggi più che mai penso al bisogno che ha la nostra Italia, che ha la nostra Sicilia di un impegno perché realmente si possa ripartire dai più deboli e questo significa l'impegno soprattutto per il lavoro, l'impegno perché tutti abbiano casa e pane. E oggi sappiamo come questo diventa, ahimè, veramente un flagello, una piaga della nostra società. A volte tutti tocchiamo con mano proprio che cosa significhi addirittura la mancanza di lavoro. Per cui mi auguro che da parte di tutte le istituzioni, delle amministrazioni locali e anche nazionali e regionali si possa veramente ripartire dai più deboli.